3.0 storie digitali alla radio in questa seconda parte di 3.0 storie digitali alla radio come ogni settimana ci occupiamo di professioni legate all'innovazione al digitale oggi qui con noi in studio c'è un'esperta di fughe romantiche a meno che non voglia raccontarci qualcosa che abbia a che fare con la propria vita privata e nemmeno da penitenziari cioè un escape coach lei è monica saponara la saponara buongiorno benvenuta buongiorno grazie escape coach è una professione all'estero abbastanza conosciuta molto meno nel nostro paese però può essere sia di sponda per tutti coloro che abbiano voglia intenzione di cambiare vita e professione però può diventare anche un mestiere per i tanti che si incuriosiscano a proposito di questo mestiere nella tua esperienza personale che cosa accade cioè perché diventi escape coach allora nel mio caso è semplicemente perché ho voluto a un certo punto mettere a frutto il mio percorso ossia io ho fatto un percorso abbastanza lungo per capire che cosa volevo fare nella vita e non ho avuto molto aiuto nel senso che devo dire mi sono anche un po' buttata a un certo punto no ho lasciato il lavoro ho cominciato a fare un po' di tentativi intanto di che ti occupavi prima mi occupavo di marketing lavorato per quasi 15 anni in aziende televisive e un lavoro molto bello sicuramente però sentivo che c'era qualcosa che non andava quindi ho cominciato questo percorso la cosa più naturale che viene da fare quella di fare il proprio lavoro da freelance e quindi non so la contentezza insomma di non dover più uscire di casa nel traffico di Roma dare un cartellino eventualmente gli orari eccetera e poi mi sono resa conto invece che cercavo qualcosa di più per me stessa quindi volevo un lavoro di cui mi importasse no questa era la parola che mi è venuta in mente e da lì ho iniziato a fare un po' di ricerche ho cercato di capire no che cosa davvero mi potesse interessare ed è stato un lavoro lungo che è passato per anni appunto in cui ho fatto anche del volontariato in cui ho diciamo fatto tutto quello che ho letto di te peraltro confermamelo o smentiscilo che lavori in un centro antiviolenza insomma presti la tua opera in un centro antiviolenza sì sì sono un'operatrice in un centro antiviolenza e sono una socia di differenza donna che è una delle associazioni più attive che gestisce diversi centri antiviolenza che conosciamo molto bene insomma sono state spesso ospiti qua con piacere a Radio Città Futura e questo per dire che grazie alla tua nuova veste lavorativa sei riuscita magari forse anche a ritagliarti del tempo per ciò che ti piace parallelamente fare come inciso sì ho capito fondamentalmente che si possono fare più cose insieme che si può sostituire uno stipendio fisso un contratto a tempo indeterminato con anche due tre cose che però come dire insieme fanno chiaramente di che vivere perché questa è la cosa fondamentale e poi tutto il resto insomma è come dire è come un puzzle che uno può crearsi mettendo insieme tutti i pezzi di ciò che ci interessa e il motivo per cui poi appunto sono diventata escape coach è stato questo che ho voluto mettere a frutto siccome ho capito poi che il supporto era qualcosa che mi definiva come persona mi piaceva aiutare le persone e a quel punto ho messo a frutto il mio percorso ti hai deciso non di che so navigando andare sui siti di mollo tutto e cambio vita e me ne vado in Australia su una meravigliosa spiaggia ma di partire da qui da ciò che ti potesse interessare fare e materialmente però come hai realizzato questo tuo progetto inizialmente? allora ho iniziato in questo modo nel frattempo lavoravo appunto come freelance quindi continuavo a occuparmi di comunicazione e marketing questo per pagare l'affitto e poi ho trovato questa società inglese quindi ci sono andata effettivamente su google a cercare non mi ricordo bene cosa però ho trovato Escape the City e ho visto che loro organizzavano degli eventi ed erano eventi di ispirazione in cui le persone si incontravano e raccontavano i propri cambiamenti lavorativi quindi questa società nasceva proprio dalla volontà di mettere insieme persone che avessero fatto un cambiamento e potessero ispirare gli altri quindi li ho contattati e ho chiesto se potevo organizzare un evento anche a Roma visto che ero socia di uno spazio di co-working dove andavo a lavorare e quindi avevo un posto in cui farlo e allora all'inizio erano un po' titubanti poi io ho insistito e ho detto secondo me c'è ma questo perché? perché conoscevano il fatto che da noi non fosse una metodica praticata quindi temevano che non attecchisse in Italia? perché erano scettici? non lo so forse anche perché non so chi è questa semplicemente questo esatto avevi curriculum da skate? no non avevo un curriculum ma in realtà era una curiosità però devo dire che poi sono stati insomma poi è un lavoro che io faccio ormai da quasi due anni con loro su base totalmente volontaria ecco per questo per dire come hai iniziato ho iniziato provando a vedere se effettivamente questa cosa facendola mi piaceva oh però c'è un senso di responsabilità che mi sembra notevole cioè nel senso che tu ti sei caricato ovviamente e forse pure alleggerita della professione precedente no investendo su di te e creandoti una professione però tu non racconti solo del tuo business personale perché poi attraverso gli incontri aiuti le persone foglio alla mano, programma alla mano a cambiare vita quindi ci sono persone che si affidano a te investendo tantissimo ora economicamente non lo so perché non so il tuo coaching quanto possa costare poi magari ce lo dirai però investono tanto cioè sperano di poter trovare una strada alternativa quindi è una responsabilità nelle mani non da poco sì è una responsabilità importante però la cosa che io faccio presente sin dall'inizio che è la base proprio per partire è che qui non stiamo parlando di come dire io non sono chiaramente un'agenzia di collocamento esatto non sono un guru non posso cambiare vita delle persone la prima cosa che dico quello che posso fare per le persone è aiutarle a capire a provare a farlo perché non dico mai a nessuno di lasciare un lavoro il lavoro è di come dire di mollare e poi vedere cosa fare a meno che non hai tanti soldi a quel punto parliamo di dire di altro tipo di persone però invece chi vuole partire da sé io sento la responsabilità però come dire alleggerisco in questo la persona nel senso che è importantissimo non pensare devo avere l'idea geniale e costruire il business miliardario no devo prima partire da me stesso capire che cosa mi interessa iniziare a fare come ho fatto io provarci e vedere se poi questo piano piano come dire riaccende anche la possibilità di creare un business allora lì poi arriva come dire la mia esperienza anche di 15 anni di marketing e quindi do una mano poi alla persona a costruire quindi materialmente le persone arrivano da te intanto potendoti contattare attraverso il sito www.monicalasaponara.it e ti dicono io mi trovo in questo frangente voglio cambiare vita tu che tipo di aiuto mi puoi dare cioè ci incontriamo e che accade? accade che allora innanzitutto facciamo una bella chiacchierata perché è importante come dire capire appunto da che punto sei della tua vita non solo lavorativamente ma economicamente la tua famiglia insomma quali sono anche le tue responsabilità le cose non negoziabili della tua vita per non fare pazzie e poi quello che facciamo è iniziamo a fare un lavoro che va un pochino ad alleggerirsi di quelle che sono tutte le competenze lavorative le cose che siamo abituati a fare per lavoro ma andare a vedere quali sono le competenze innate cioè io chi sono cosa mi interessa cosa mi provoca rabbia cosa mi fa piacere cosa faccio quando sono da sola per esempio è una cosa che ci dà un sacco di spunti e in base a quello riusciamo a capire qual è il nucleo certo trasformarlo in attività non è semplice perché io posso dire che so mi piace cantare quando sono da sola e però trasformarmi in una cantante è un altro paio di maniche no 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 infatti questo non è come dire sfatiamo subito il mito che non tutti gli hobby possono diventare lavori siamo già a punto di partenza no però come dire questa cosa come dire può denotare magari tu fai un lavoro molto sterile invece poi io scopro che tu canti abitualmente che quindi hai magari un animo un po' più artistico creativo eccetera quindi sono tante non è ti ripeto è un percorso questo è molto importante da capire perché poi da quello vengono fuori dei potenziali nuclei di idee che non devono essere vissute come immediatamente idee di business questo è anche un altro punto fondamentale ma proprio come ho fatto io iniziare a provare a fare delle cose vedere che cosa succede tra l'altro mi è capitato di sentire un'intervista che avevi rilasciato qualche tempo fa che consigliavi sempre di affiancare l'attività diciamo che si sta sviluppando a quella attuale questo non per paura di lanciarsi ma per concretezza nel senso che poi quando l'attività su cui si vuole investire è pronta a decollare allora siamo anche liberi di sbarazzarci del passato assolutamente sì così come è possibile attivare quelli che chiamo i lavori cuscinetto oggi come oggi con il digitale è molto facile come dire vendere le proprie skill online quindi ci sono tanti siti ma non necessariamente diciamo nell'ambito digitale per dire ci sono delle app che permettono di poter fare babysitter o di poter aiutare qualcuno nei lavori domestici l'importante è come dire avere un avere un senso anche di umiltà io conosco persone che erano dirigenti di azienda che hanno accettato un lavoro in un call center per poter sviluppare parallelamente un business che interessava questo non vuol dire fare un passo in dito vuol dire semplicemente mettere al centro se stessi assolutamente ci vuole anche tanta consapevolezza di sé e un briciolo di sicurezza in se stessi nel senso che nel momento della transizione può capitare è immaginabile che magari ci si trovi in difficoltà nel puntare su se stessi magari si viene da un'esperienza lavorativa non soddisfacente ma non si ha la forza il coraggio di puntare su di sé in quel caso interviene l'escape coach nell'esperienza che hai maturato insomma in questo tempo in questi due anni da quando ti occupi principalmente di coaching al di là dei nomi e dei cognomi però ci sono delle storie che ti sembra siano valide da segnalare cioè persone che vengono da ambiti magari che non ci azzeccano nulla e che grazie al lavoro di coaching di escaping coach sono riuscite a trovare la loro dimensione se si quali assolutamente sono tante nel senso mi viene in mente comunque una donna che lavorava nel settore della comunicazione che attualmente lavora in Sicilia ed ha aperto un diciamo non so come definirlo perché viene a dire un ostello per disabili ma in realtà lei fa soprattutto lezioni di surf che era una sua passione che faceva durante l'estate così perché le piaceva e basta non aveva mai pensato però aveva anche lei questa voglia di poter in qualche modo iniziare ad aiutare gli altri e poi ci sono tanti altri lavori che sono non necessariamente legati come dire al sociale questo è una delle cose più come dire frequenti nel senso molte delle persone che si rivolgono a me lo fanno perché vogliono fare qualcosa di importante quindi un cambiamento che ha a che fare con se stessi però molto spesso inclusivo insomma una forma di empatia nel ricostruire una vita nuova partendo da sé ma con un occhio agli altri che è particolarmente bello a proposito dell'occhio agli altri mi fa piacere introdurre anche un'altra ospite che ci ha raggiunti al telefono Barbara Marà buongiorno benvenuta buongiorno buongiorno a tutti i radioascoltatori founder del blog al femminile Leading Myself che è qui con noi anche perché è stata il gancio diciamo il tramite attraverso il quale io ho conosciuto personalmente Monica La Savorara attraverso un appuntamento insomma che c'è stato qui a Roma e che ruotava intorno proprio alla valorizzazione dei talenti delle competenze dell'intraprendenza femminile e in maniera molto concreta attraverso questo appuntamento che appunto avevate deciso di tenere qui a Roma intanto voi perché sceglieste Barbara e perché sceglieste Monica La Saponara per questo convegno Barbara? Monica è stata una grandissima protagonista di Antenne ha raccontato la sua esperienza di vita che per noi è abbastanza simbolica come come il proprio obiettivo del blog che è quello appunto di dare voce al coraggio delle persone Monica si è rimessa in gioco ha cercato la sua strada ha diciamo dato voce al suo coraggio alla sua voglia di cambiamento e visto che Antenne aveva come argomento principale proprio il cambiamento per noi Monica era veramente il simbolo di questa scelta e non poteva ricadere su di lei Quante storie da questo punto di vista vi capita di intercettare di raccontare di incontrare attraverso il blog Leading Myself di questo genere in Italia cioè c'è una crescita da questo punto di vista Barbara? Assolutamente sì sono tantissime le storie che veramente ci riempiono il cuore e l'anima vediamo che c'è tantissimo coraggio tantissima voglia di rimettersi in gioco di dire basta situazioni magari che non vanno e di provare a dare voce alle proprie passioni ecco questo è un altro filo conduttore il tema della passione perché vediamo che spesso questo cambiamento avviene nella seconda parte della propria vita e avviene proprio dando voce alla propria passione inseguendo quello che magari prima si pensasse potesse essere soltanto un hobby o un semplice interesse invece abbiamo visto che proprio diventa protagonista della seconda parte della vita ecco ma quello che ti chiedo è nella tua esperienza con quali risultati cioè per non fare un quadretto semplicemente edulcorato della situazione in cui uno dice cambia vita ci puoi riuscire ci sono risultati insomma sono tante le donne che riescono a ricostruirsi anche un percorso professionale nella seconda parte della propria vita o comunque a un certo punto quando si siano stancate di quella precedente abbiamo visto e letto grandissimi successi però non è tutto rose e fiori abbiamo visto successi raggiunti con grandissimo sacrificio e voglia di crederci fino in fondo perché un cambiamento nasce sempre da abbiamo visto abbiamo letto da uno stato d'animo non semplice non facile tutto nasce da quel mal di pancia che ti fa capire che c'è qualcosa che non va nella tua vita quindi diciamo che si parte anche con difficoltà per poi riuscire effettivamente ad avere successo ma soprattutto vediamo che il successo avviene attraverso idee nuove completamente diverse le storie che raccontiamo sono veramente storie dove si dà spazio alla fantasia quindi la necessità insegna anche strade nuove non battute quindi fantasia creatività come ci diceva Monica Lassaponara molto spesso si può partire da qualcosa che abbiamo lasciato un po' nella nostra vita collaterale e in questo caso il ruolo di escape coach è fondamentale perché magari riesce grazie al proprio bagaglio professionale a notare a mettere in evidenza quelli che possono essere spunti da cui ripartire prima di salutarci Barbara Marà volevo chiedere progetti iniziative programmi futuri del blog di leadingmyself.it ogni giorno cerchiamo di dar voce appunto al coraggio delle persone il prossimo obiettivo sarà sicuramente un'antenna e due probabilmente a Milano il filo conduttore il nuovo tema potrebbe essere insieme per un semplice motivo noi crediamo che andare avanti da soli non è mai estremamente positivo ma vogliamo cercare di aggregare di arrivare a un nuovo insieme attraverso anche tante altre associazioni che perseguono i nostri fini perché possiamo riuscirci ma riuscirci insieme secondo noi porterà ad un successo maggiore quello sicuramente la rete da questo punto di vista c'è particolarmente amica Barbara Marà grazie per essere stata con noi una buona giornata grazie a voi e allora Monica noi dicevamo poco prima di parlare con Barbara proprio del concetto di empatia dell'idea di lavorare insieme e c'è l'occasione peraltro per chi è a Roma nel mese di maggio per poterti incontrare per partecipare a uno di questi seminari per poter mettere lì insomma le basi di un eventuale cambiamento il primo appuntamento chiamato Escape Monday è l'8 di maggio e che cosa accadrà? Allora l'Escape Monday nasce appunto con l'idea di riprendersi lunedì che è il giorno più funesto per chi lavora in ufficio soprattutto quello in cui se il lavoro non ti piace non ti va nemmeno ad alzarti dal letto quindi noi diciamo una volta al mese a Impact Hub Roma che è questo spazio di co-working di cui parlavo prima facciamo questi eventi dove si trova? a San Lorenzo Viale dello Scalo San Lorenzo 67 facciamo questi incontri sono degli aperitivi in cui le persone appunto vengono due persone raccontarci come hanno cambiato le vite la mia diciamo la mia idea è nata appunto da quella di portare persone molto diverse tra di loro in modo che ognuno potesse riuscire a identificarsi e anche da un certo punto di vista abbattere le proprie paure perché diciamo io non posso perché invece lei l'ha fatto oppure lui l'ha fatto l'esempio pratico esatto quindi chi ci sarà protagonista di questo appuntamento? allora gli ospiti non sono stati ancora annunciati però avremo sicuramente anzi posso annunciarlo in diretta visto che non l'ho ancora questa notizia questa rima che conoscete molto bene che è Lucia Cuffaro ah certo che è stata la nostra ospite di cui molti conoscono il volto televisivo ma che in realtà nasce appunto lei anche lei lavorava nel marketing ed ha fatto un lungo percorso di attivismo del movimento per la decrescita felice si occupa di autoproduzione l'abbiamo vista in televisione la vediamo in televisione su Rai 1 nel programma in cui si occupa proprio di questi temi esatto la sua poi è una testimonianza meravigliosa di quanto si possa vivere con poco a quanto si possa rinunciare addirittura un libro che promette di risparmiare 700 euro in 7 giorni io ancora lo devo praticare quantomeno insomma e poi l'altro appuntamento invece è alla fine del mese il 27 maggio che appunto è un sabato mattina quindi diciamo per chi lavora può prendersi non lavora può prendersi tre ore di tempo e sarà un workshop si chiama proprio escape workshop e come progettare la propria fuga dall'ufficio ovvero cosa iniziare a fare praticamente per dire ok ho deciso che lo faccio e ci provo diamo qualche piccolo suggerimento due tre suggerimenti per poterlo fare intanto ancora prima di venervi a trovare naturalmente nelle iniziative di cui ci stai raccontando però se uno volesse partire oggi e mettere lì le basi di tre piccoli cambiamenti che può mettere in atto per cercare di costruire un'alternativa che diresti allora cose molto semplici innanzitutto smettere di lamentarsi e di dire che servono i soldi per farlo perché non è non è assolutamente vero un libro da cui io consiglio molti di partire è un libro che si chiama 100 euro basta che dice che appunto per creare un nuovo lavoro a volte possono bastare anche 100 euro quindi smettere di lamentarsi cominciare a segnare tutte le proprie spese cominciare a vedere dove spendiamo perché poi la prima cosa di cui ci lamentiamo è quella non ho i soldi non posso permettermi di eccetera e poi la terza cosa è cominciare ad avere uno sguardo aperto e curioso verso tutto ciò quello che ci incuriosisce non lo dobbiamo mai mollare no dire tanto non è possibile perché se non ci provate non lo saprete mai quindi intanto afferrare quello che ci interessa e cominciare a come dire a indagare indagare quello che metterlo lì magari che so anche annotando di giorno in giorno ciò che ci viene in mente io ho un consiglio che do sempre che faccio io ormai da anni è quello di avere sempre consiglio oppure nelle note del cellulare un quaderno delle idee in cui anche le cose più assurde che ci vengono in mente le dobbiamo fissare le si possa appuntare siccome siamo in conclusione di questo spazio ti domando velocemente per intraprendere questa tua professione hai dovuto investire soldi denaro come è andata molto poco perché come ho detto ho iniziato a farlo in maniera totalmente volontaria piano piano ho iniziato a guadagnare qualcosa e con quello come dire ho investito per fare poi il mio sito e per fare dei corsi di coaching e oggi hai potuto abbandonare il lavoro di marketing sì per adesso sì tranne quello quando mi offrono delle cose che mi piacciono molto allora quelle delle coltive le porti avanti giustamente Monica La Savonara grazie per essere stata con noi per averci raccontato del mestiere di Escape Coach ricordo ancora una volta per chi volesse informarsi sulla sua attività ma anche sugli appuntamenti di cui ci raccontava per l'otto e il 27 di maggio di andare sul suo sito che è www.monicalasaponara.it grazie e una buona giornata grazie 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 grazie